Ciao ragazzi bentornati, qui il vostro Zur92 con quello che è sicuramente l'ultimo videoacquisti dell'anno e che segna la fine dei videoacquisti per un po' ovviamente tra zone gialle, zone rosse, stop alle rotative eccetera non so quando arriverà il prossimo videoacquisti ma non vedo l'ora di parlarvi degli acquisti di questa settimana che si arrivano in ritardo perché ho preferito prendermi la giornata di ieri per tornare in centro, fare qualche giro in più e comprare le ultime cose piuttosto che presentarvi un videoacquisti più scarno questa settimana e uno altrettanto scarno la prossima perché onestamente non ne vai la pena quindi partiamo subito da due cose che ho comprato in digitale quindi non vedete sto parlando di Watch Dogs Legion e di Mortal Phoenix Rising che ho comprato con gli sconti Ubisoft che tra l'altro vanno avanti fino al 7 di gennaio fateci un salto, sono enormi quindi ha una cifra abbastanza buona sto parlando di 116 euro in tutto per le versioni gold con i season pass quindi 58 euro l'uno contro i 99 che costerebbero è stato davvero il mio affare natalizio e ne sono super entusiasta sono due giochi che mi ispirano tantissimo uno dei due è Immortal Phoenix Rising lo inizieremo probabilmente con l'inizio dell'anno in live su Twitch voglio finire Spyro e finire almeno uno dei due PC a cui sto lavorando quindi non appena quello sarà pronto potremo iniziare a giocare in Mortal Phoenix Rising su Twitch e iniziare questa probabilmente lunghissima run che ci accompagnerà immagino almeno per le prime settimane di gennaio purtroppo le schede video sono introvabili quindi non lo giocherò alla qualità che vorrei ma ho visto che i requisiti non sono così alti quindi possiamo tranquillamente iniziarlo per quanto riguarda Watch Dogs invece i requisiti sono più alti il ray tracing è fondamentale e di conseguenza voglio aspettare comunque almeno l'arrivo delle nuove schede video per poter dedicarmi come si deve a quel gioco se ci sarà l'occasione lo giocheremo su Twitch magari verso marzo-aprile quando il mondo si spera torni a scorrere come si deve e le cose si possano comprare perché a quanto pare nessuno vuole i miei soldi oppure nello giocherò per i cazzi miei arriverà semplicemente una recensione quando lo avrò giocato abbastanza ma di questo avremo modo di parlare in futuro invece sempre in ambito videogiochi lo avete già visto ma ho comprato la Collector Edition di Cyberpunk non ve la faccio rivedere da zero assolutamente non ne vale la pena la statua è bellissima, la Collector Edition è bellissima il gioco è una merda no, il gioco è bellissimo se potete permettervi di giocarlo o se come me non l'avete prenotato con un anno e mezzo di anticipo su una console per cui hanno fatto uscire una versione orribile che assolutamente non vale il suo costo è un sacrilegio quello che hanno realizzato ed è assolutamente una truffa chiamiamola col nome che merita ovviamente ricomprerò il gioco e lo giocherò su PC sempre quando le scrivi video saranno disponibili eccetera 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 ma anche quando troverò un'offerta adeguata perché non ho alcuna intenzione di pagarlo a prezzo pieno dopo essere stato truffato in questa maniera nonostante questo però guida in Collector Edition di Cyberpunk l'avevo prenotata anche lei un anno e mezzo fa è bellissima e non mi pento di averla comprata sono incazzato nero con CD Projekt Red ma non posso dire che il lavoro che hanno fatto a livello di artwork non meriti un acquisto del genere o l'acquisto dell'artbook che abbiamo visto in uno degli ultimi video acquisti o la Collector Edition sono assolutamente cose che vanno a distinguersi dal fatto che la versione all gen sia una merda sono due cose separate e andarle ad equiparare sarebbe comunque sbagliato da parte mia per quanto incazzato per quanto deluso non voglio mentire né a me stesso né a voi dicendovi che hanno prodotto qualcosa che non valga i suoi soldi non vale i suoi soldi su all gen o in generale su console ma è un discorso differente proseguiamo poi con il primo regalo di Natale che ho scartato ovvero la statua gem di Ruki e Renamon è bellissima la cercavo da anni questa è uscita per la prima volta nel 2016 è andata esaurita non l'ho più trovata se non in quelle versioni super fasulle di Aliexpress per cui non investirei mai un centesimo e l'hanno rimessa in vendita alla fine di ottobre un'amica me l'ha regalata per Natale è meravigliosa e sono felicissimo finalmente di averla sono i miei due personaggi preferiti di Digimon Tamers che come alcuni di voi sapranno è la mia serie preferita di Digimon quindi davvero è qualcosa che sono felicissimo di poter finalmente esporre nel mio studio proseguiamo poi con i Lego e con i Brickets di The Child e The Mandalorian sono usciti tipo ad agosto non li avevo ancora recuperati l'ultimo giretto che ho fatto in centro ho pensato di prendere anche questi sono qualcosa di inutile perché stanno uscendo un milione di Brickets e non riuscirei mai a stare dietro a tutti e ne ho un esercito lì dietro non so se li vedete bene e non so nemmeno dove infilarmi questi però è The Child è il Mandaloriano è uno dei prodotti migliori che Star Wars ci sta dedicando negli ultimi tempi e li volevo quindi vi lascio 30 secondi al montaggio di questi e poi torniamo a parlare di fumetti ed eccoci dopo il montaggio dei nostri due nuovi nuovi Brickets che non ho idea di dove infilarmi pronti per passare all'ultima sezione del video di oggi ovvero i fumetti fumetti che non verranno recensiti probabilmente fino al nuovo anno c'è tutta una serie di cose che ho in programma da qui al 31 per poi dall'uno tornare a recensire cose in maniera più regolare ma uno arriverà ovvero questo Ababbo Morto di Zero Calcare che sarà il mio fumetto di Natale quindi ne parleremo il 25 dicembre qui sul canale non ho idea di che cosa tratti cioè visto così mi dà quella cosa da accanto di Natale in versione in versione zero ma non ho assolutamente guardato nulla al riguardo volevo solo un fumetto a tema natalizio da portarvi per il 25 dicembre quindi eccolo qui passiamo poi no l'ho qua giù qui a tutto il resto degli acquisti più o meno validi più o meno curiosi più o meno discutibili cominciamo con Outer Darkness e Ju John Lehmann un autore di entrambi fa questo crossover completamente fuori dal mondo delle sue due serie Ju è una serie che assolutamente tutti mi hanno consigliato e io non ho ancora avuto modo di iniziare Outer Darkness è una serie di cui spesso abbiamo parlato qui sopra amo tantissimi che amo tantissimo ma che al momento non ha una conclusione questo è etichettato come volume 3 ma in realtà non è una conclusione non è nulla è semplicemente un crossover tra le due serie la conclusione di Outer Darkness al momento è assolutamente M.I.A e non lo so spero davvero potremo vederla perché è una serie assolutamente validissima che merita una degna conclusione proseguiamo con Zed terza parte della collaborazione tra Marvel e League of Legends è un fumetto che mi incuriosisce perché sì sono molto curioso per quanto riguarda la lore di League of Legends che quest'anno complice alla pandemia ho riscoperto e mi ha di nuovo infossato completamente ma che finora non mi ha soddisfatto questa collaborazione apre sì qualche porta sulla lore ma di contro non è a livello qualitativo che mi aspetterei da League of Legends e in generale da qualcuno che si freggia dell'etichetta Marvel non sono all'altezza assolutamente e spero davvero che questo volume segni in qualche modo un cambio di rotta per questi fumetti nel frattempo hanno rimandato il videogioco di Ruined Kings al 2021 e non ha inizio 2021 molto più vaghi molto più lunghi come tempi e ancora una volta la mia speranza di di abbuffarmi della lore di League of Legends viene viene spenta così con cattiveria procediamo con il terzo e ultimo capitolo di Mercy di Mirkandolfo questo capitolo segna la fine della prima trilogia sappiamo già che Mercy adesso arriverà negli States e di conseguenza qui in Italia immagino sempre per Panini Comics parleremo del ciclo completo a inizio anno non ho ancora assolutamente letto l'ho letteralmente comprato ieri mattina questo questo terzo capitolo finora Mercy mi sta piacendo è sicuramente un balzo in avanti per Mirka ma ho riscontrato alcuni punti che non mi fanno impazzire ne parleremo a recensione completa è sicuramente un ottimo lavoro io non ho idea di come Mirka riesca a stare dietro a tutto ma ci ho trovato qualche punto negativo al momento ho solo la regular mi deve arrivare la variant quindi probabilmente nel primo video acquisti 2021 vedremo la variant di Mercy concludiamo il video di oggi con Basket Full of Head di Joil prima serie della sua Ilaus Comics l'etichetta per DC Black Label che DC ha segnato per gestire quello che è il mondo horror dell'etichetta americana Joil è sicuramente la persona adatta lo ha dimostrato più volte sappiamo che sa spaziare sull'horror sia con tematiche più cattive più gore più cruente se vogliamo sia con temi più rilassati se così possiamo metterla quando parliamo di horror meno cruenti ma non meno validi come ad esempio ha dimostrato con Lock and Key diventata poi ulteriormente famosa con la serie Netflix sono convinto che Joil sia la persona adatta per gestire un'etichetta horror e per quanto l'horror non sia assolutamente il mio genere sono curioso di vedere cosa questa prima serie tra l'altro disegnata dal nostro Leo Max possa possa consegnarci come possa aprire le danze quindi anche per questo arriveranno due chiacchiere a tempo debito nel corso dell'anno perché dico nel corso dell'anno nuovo perché ci sono almeno due cose che voglio portarvi da qui a fine anno ovvero da un lato la recensione di Ababbo Morto il 25 dicembre per celebrare questo Natale che per quanto non mi appartenga è comunque segnato il rosso sul calendario dall'altro qualcosa che scoprirete prestissimo su Instagram quindi seguitemi controllate le storie penso tra il 25 e il 26 arriveranno le storie in questione e capirete di più ci sto lavorando devo finire di impostarlo graficamente per poi potervelo consegnare e la conclusione di tutto ciò arriverà invece il 31 per concludere in bellezza l'anno con l'anno nuovo ci sarà una nuova sfida per me e qualcosa che mi porterà a recuperare tutte le recensioni che non ho fatto fino ad ora in conclusione questa sera siamo su Twitch come sempre per giocare a Spyro e finirlo non appena finiamo quello se il computer è pronto iniziamo Immortals altrimenti Hollow Knight così per farci del male ragazzi per oggi è davvero tutto se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando usciranno i prossimi noi ci vediamo al più il giorno di Natale e ragazzi grazie ancora della compagnia e alla prossima